Musica Direi che qui, ne memento, ci siamo stati più che abbastanza, è il momento di tornare indietro Mmm, stiamo tornando indietro? Con Aro intanto messa lì a fare nulla Al momento hai 150 fiori, andando te ne spariranno Sti cazzi, ritorno al mondo reale, ne memento, grazie per il lavoro svolto Di nulla Parapapapap Vediamo un attimo Oh, volevo leggere quello lì che cittava se c'era scritto qualcosa di strano Oh, caetta ca Mi mancavi su giro Che facciamo con quel cheater? Non siamo fregati se i nostri attacchi non hanno effetto In quel gioco è invincibile, quindi è invincibile anche nel memento E se provassimo a batterlo nel suo stesso gioco? Oh, però, lui, continuerà a barare E se chiediamo l'aiuto a un giocatore provetto? Sembra che in città ci sia un gamer incredibile, incredibilmente bravo, che si fa chiamare il re Il forum, nei forum parlano tutti del fatto che è riuscito a battere questo citer usando tecniche ortodosse Davvero? Dove possiamo trovarlo? Eh, ho cercato il suo account sul server ufficiale Ma non sono riuscita a capire quale sala giochi frequenti, mi spiace Ma se è davvero famoso, non dovrebbe essere facile trovarlo? Questo è vero Ok, allora cerchiamo le informazioni sul re nelle sale giochi della città Due ce ne sono Non sapevo si potessi diventare famosi semplicemente giocando bene a un videogioco Benvenuto su YouTube Comunque, se dovessimo trovare questo re, potremmo risolvere il caso Con il suo aiuto schiaccieremo certamente quel bastardo ad un cheater E la Morgana Ancora messaggi? Perdonatemi se vi scrivo la sera inoltrata Mi rammarico profondamente per quanto è successo Che formalità Deve essere una persona molto rigorosa Formalità del genere però, non mettono un po' di distanza tra di noi Siamo compagni, Haru Sono l'ultima arrivata, devo comportarmi di conseguenza Non sono cose che ci interessano granché Inoltre, sei già una di noi Ti ringrazio Mako-chan Quindi? Ok Come scusa? Scusa, credo di averlo scritto inconsciamente Sono felice di avere un'amica della mia età Tranquilla, è bello vederti prendere confidenza Ottimo, diventeremo amicissimi Mako-chan Tu non puoi Oh, scusate, mi sono lasciato trasportare Oh, Ryuji Allora, suo giro È completo la sua questline Quindi siamo a posto con lui Sentiamo Kawakami Oh, mi sta davvero chiedendo un massaggio Va bene Sappi che l'ho imparato lavorando da Victoria Sono bravissima Ok, arrivo subito Aspettami Ti aspetto Pan, pan, pan Oh, perfetto I massaggi di Kawakami funzionano ancora Brava la mia prof preferita Allora, allora, allora Non sembrerebbe Che ci sia nessuno Ah, aspetta C'è Oh No, cazzo Dovevo schiacciare il quadrato Non X Vabbè Aspetta, eh Ce l'ho una persona stella Ovviamente, no Comunque i fumi Possiamo salire di rango La cosa è importante Possiamo salire anche con Mishima Oya Vabbè Fa sempre la Oya E direi basta Quindi l'opzione Più Interessante Sarebbe ovviamente andare dai fumi Visto che abbiamo menato su Amad No, si scherza ovviamente Nel gioco si intende Finta Digitale Oh, non vedo l'ora di aumentare quella Mmm Quella stronza di ciaia io però Già che ci siamo Vorrei Giustamente guardare una cosa Vorrei comprare una cartolina Perché L'altro giorno mi è passato sotto mano una cosa E vorrei testarlo Per adesso Non perdiamoci d'animo Lo cercheremo magari domani E intanto andiamo dai fumi Starcun Il fatto è che È successo qualcosa di inaspettato Possiamo parlare Oh, i fumi Tutto quello che vuoi Allora Che ne pensi? Vuoi passare del tempo con i fumi? Dopo aver Ovviamente Nel gioco Picchiato sua madre Direi di sì Passiamo del tempo con lei Siediti Parliamo un po' Tutto quello che vuoi Fumi, cara Ebbene Mia madre ha finalmente parlato Mi ha detto che La maggior parte dei miei match Finora Erano stati truccati in mio favore Ma Ha anche ammesso Che è stata lei A vendere quella storia Al settimanale Io Non ne avevo idea Mi vergogno così tanto Tuttavia Ripensandoci Ricordo di alcune mosse Scellerate in pessimi momenti Dei miei avversari Ebbè Ho sempre voluto Che la gente riconoscesse Le mie abilità Ma Suppongo Non accadrà mai Oh, i fumi Mi sono vantata così tanto Di tutte quelle finte vittorie Perché mia madre ha confessato Tutto così da un colpo È come se il suo cuore Si fosse risvegliato Un risveglio del cuore I ladri fantasma Non può essere Forse Hanno Origliato Le nostre conversazioni Tu che ne dici? Non ne so nulla io Comunque È bello che si È proprio bello Che si è cambiato Eh sì Eh sì È stato doloroso Scoprire la verità Ma sono felice Che mia madre Si è cambiata Ho deciso Non perderò Di cosa stai parlando? Oh scusa Mi riferivo all'amichevole L'affronterò Secondo i piani Tuttavia Prima di farlo Confesserò ogni cosa Cosa? So che verrò criticata Aspramente Ma devo assicurarmi Che tutti Sappiano la verità Beh Certo Se perdessi Dopo questa storia Cioè Se tutti sapessero La verità E tu perdessi Nessuno ne rimarrebbe Scandalizzato Direbbero Hai visto Ho fatto sempre finta Se tu perdessi Con la storia ancora finta Tutti farebbero il tifo E non sarebbe una cosa giusta Il prossimo incontro Servirà a mostrare I miei veri talenti Non so come finirà Ma spero che lo guarderai Tutto quello che vuoi Come tuo insegnante Prometto di battermi Al meglio Così da non metterti In imbarazzo Non lo faresti mai Credimi Non sarei mai In imbarazzo Per colpa tua Oh patata I fumi Quanto sarebbe stato bello Vederti combattere Oh I fumi Mentirei Se ti dicessi Che non sono spaventata Il mio regno È un castello di carte Non sono sicura Di poter sopravvivere A una vera battaglia Ma certo Che ce la farai Patata Però intendo combattere Con degnità Fino alla fine Come si confà A una regina Oh C'è una nuova mossa Che vorrei testare Prima dell'amichevole Ti vado Un altro match Tutto quello che vuoi Cerca di colpirmi Con tutto quello che hai Tiro addosso La Morgana Con tutto La borsa Sempre Sempre se riuscirai Superare i prodi cavalieri Che difendono Il regno di Togo Credo di aver aumentato La mia conoscenza Beh Non c'è male No Plink Capisco Perciò C'è ancora margine Di miglioramento Vorrei rifarlo Quando ti va Quando vuoi tu I fumi Piri pipì Chi è Sono io Potresti concedermi Un momento Tutto quello che vuoi Ero curioso di sapere La tua opinione Sulla mia decisione Di denunciare Le partite truccate Hai il mio supporto Anche se rimarrai da sola Io sarò sempre con te Grazie Mi fa piacere sentirlo Sei la ragione Per cui Sono riuscita A prendere Quella decisione Sai che dopo L'incontro Alle Hawaii Fare Dirle di no Sarebbe Oh Sarebbe tragico Poverina Le nostre Conversazioni Mi hanno aiutato A giocare Con assoluta sincerità Mi dispiace Volevo solo Manifestare La mia gratitudine Devo prepararmi Per la mia partita Di dimostrazione Quindi Ora vado Ci vediamo Alla chiesa Il cuore I fumi Oh patata Quanto è bella I fumi Piccolina Andiamo Andiamo a mangiare Un boccone Dopo la scuola Ho un coupon Per il Big Bang Burger Anche se forse Non dovremmo più frequentare Quel posto Meglio di no Pare che chi mangia lì Finisca per avere Un raptus Le voci a cazzo Di cane I nemici di Okumura Hanno tutti fatto Una strana fine No? Forse Servono panini avvelenati Che mostro Dai che fino a ieri Mangiavate lì Sicuramente Già Io ho votato Proprio lui Sul fansite I ledri fantasma Hanno il dovere Di punire le persone Malvagie Spero che si occupini Di lui Al prima possibile Che schifo La gente Magari ieri Mangiavano Lì dicevano Figa È buonissimo Sto panino Altro che 21 giorni Mancanti Non c'è tempo Per rilassarsi Sai Morgana Fa un culo Un po' Vediamo Chi mi vuole Vogliamo andare Al palazzo Che si fa Oggi Maruki Cosa fai oggi Fionix-kun Ho appena sbrigato Degli affari Al consiglio studentesco Fammi sapere Se succede qualcosa Per un altro po' Rimarrò a scuola Oh Makoto Dobbiamo finire La nostra storia Lo so Aspetta Dobbiamo finire La nostra storia Con Makoto Piano Maruki O Makoto Mmm Io Direi Maruki Visto che Scusa se è l'improvviso Scusa se ti scrivo Così all'improvviso Ma c'è una cosa Di cui vorrei La tua opinione Maruki Dopo tutto il tempo Che mi hai fatto aspettare Guarda Preferirei parlarti Di persona Dei dettagli Hai un po' Di tempo libero Sì Ma devo andare A prendere Una persona giusta Maruki Ma dai Hanno disegnato Il nostro logo Con il panino Ma che bello Ah giusto Prima Devo controllare Una cosa A Yongen A proposito A Yongen Takemi Oh Anche lei Dobbiamo chiuderla Devo chiudere Un sacco Di storie Oh sono triste Devo vedere Una cosa Nei vicoli Eccola Lo sapevo Di averla vista Scusate un attimo Casella di posta Adesso che ci pensa Hai comprato Una cartolina Perché non la spedisci A qualcuno A chi potrei Mandarla Potrebbe essere Una scelta Effettivamente Però La mandiamo A Chiaia La mandiamo A quella stronz Di Chiaia Proviamo a spedirla Chiaia Sento di aver migliorato Un po' La mia relazione Con Chiaia Ok Posso mandarne Un'altra Sì Posso mandarne Altre E posso Rimandarla Ancora Lei Mandiamola anche Ad Akechi Dai Bonoloso Mi ha fatto ridere La cosa Però Cazzo Funziona Prima di fare Qualsiasi cosa Voglio andare Un attimo Ad Achiabara Già che siamo qui Prendiamo anche Una persona Per Maruki Andiamo Alla sala giochi Dove sto andando Di qua E parliamo Con il suddetto Re Eccolo qui Chi è quel ragazzino È fantastico È il re Oh Ne ho sentito parlare È un ragazzino Pare farà Le elementari Usa due pistole Sì Sta giocando da solo Contro due avversari E per lui È comunque troppo facile Beh Questo è tutto È un mostro Il re potrebbe avere Dei consigli Per battere il cheater Dovrei negoziare Con lui Aia Aspetta no Mi fai perdere La giornata tu Cazzo no Ti prego Cosa vuoi Insegnami qualche trucchetto Facciamo una partita Insegnami qualche trucco No Sembra una rottura Non prenderla sul personale Rifiuto sempre Ci vediamo C'è un giocatore fastidioso In giro Fastidioso Dici Oh Intendi il tipo Che usa i cheat Quando fa così Mi fa davvero infuriare Ma lo batto comunque Quindi non importa Lascialo perdere Sta infastidendo qualcuno Però Sembra di sentir parlare I ladri fantasma Quindi vorresti battere il cheater Sembri una brava persona Ma Lascia stare I ladri fantasma Sono fichissimi Vero? Sei un fan anche tu Li hai mai incontrati? Ho visto il loro primo successo Oh Parli della Shujin Academy Sì È stato pazzesco Cazzo Maruki però Dai Ma Non sarà facile Insegnarti a giocare Come giocare a Gunabout E soprattutto Non ci guadagno Non ci guadagno nulla Stringiamo un patto Allora Sei davvero insistente Vado ancora alle elementari Sai Senti un po Qui Voglio conoscere I ladri fantasma Cosa? Magari è impossibile Ma se mi aiuterai a farlo Ti insegnerò a giocare Beh Che ne dici? Ci stai? Vedrò cosa posso fare Aspetta Cosa? Non vuoi dirmi di no? Beh Se proprio muori Dalla voglia di farlo Ero sicuro Che avresti rinunciato Wow Non me l'aspettavo Ma i ladri fantasma Nascondono le loro identità Giusto? Puoi davvero Farmeli conoscere? Come ti chiami? Gli direi il mio nome? Oh Mi chiamo Shinya Oda Di il mio nome Ladri fantasma E digli di scriverlo Dove solo loro Possono accedere Sarebbe una specie Di autografo Oltre alla prova Che conoscono il mio nome Va bene? No Ti prego Ho perso la giornata così? Ecco la prova Che c'è bisogno Dei ladri fantasma Ci serve qualcosa Di credibile Per convincere Questo ragazzino Futaba Non ha detto Di aver hackerato Il server Di gun about Qualcosa di simile Parliamone con Futaba Potrebbe sapere Potrebbe avere Qualche buona idea Ok Per fortuna La giornata Non l'ho persa Allora Per parlare con Futaba Intendi Devo proprio Andarle a parlare Futaba Ci sei a Yongen? Sì È a Yongen Chiediamo a Futaba Di gun about Vediamo se non mi fa Perdere la giornata Hai trovato il re Non mi sorprende Allora Ti ha detto Come neutralizzare Il cheater? Sì Ma ha una condizione Vuole che gli presentiamo I ladri fantasma Però Non possiamo Rivelare Le nostre identità E qui Entri in gioco tu Non potresti tipo Hackerare i server Di gun about O qualcosa del genere Ma in questo modo Non riusciremo A entrare in contatto Con lui Lascia prove Del tuo passaggio Sarebbe facile Ma Ci crederà davvero? Ok Scriverò una lettera Di sfida In cui gli dirò Che ci impadroniremo Della home di gun about Poi dovrai seminare Delle prove Che porgino a pensare Che siano stati I ladri fantasma Il re sarà costretto A credere Che siamo stati noi Oh Mi sembra divertente Piazzerò il nostro logo Proprio in cima Alla home Perfetto Allora andremo A parlare con il re Ti avviseremo Prima di andare A parlargli Quindi aspetta Il nostro segnale Per agire Ok Potete contare Su di me Perfetto Perfetto Allora Ci siamo già portati Avanti Così Ora invece Torniamo Da Maruki Maruki Bello Ciao Da quanto tempo Ehi Ottimo lavoro oggi È arrivato l'autunno Dovrebbe fare un po' Meno caldo Grazie a te La mia ricerca Sta andando alla grande Davvero Mi hai aiutato tanto Starcoon Vorrei parlarti Ma Hai del tempo libero Tutto quello che vuoi Sento che presto Il mio legame Si rafforzerà Una pausa Non farebbe male Vuoi aiutare Maruki Con la sua ricerca Guarda Aspettavo solo quello Aiutiamo Maruki Grazie Starcoon Ho visto che abbiamo tempo Speravo di poter parlare Al caffè dove abiti Adoro il caffè Che fate lì Mi cambio E andiamo Mi vedo Ma non per la mano Con Maruki Dai andiamo a bere caffè Scusa per essere venuto Di punto in bianco Hai un vero talento Per il caffè Starcoon È buonissimo Ho il migliore maestro Che posso desiderare E anche il curry è buono Sai Mi piacerebbe assaggiarlo Ma penso che passerò Per ora Si tratta della ricerca Di cui stiamo parlando Sto raccogliendo Tutto in un articolo Ho fatto progressi Soprattutto grazie a te Ma forse Abbiamo un nuovo problema Chissà perché La cosa Non mi sorprende Allora Mi dispiace disturbarti Ma mi piacerebbe Se tu Mi aiutassi A venirne a capo Certo Tutto quello che vuoi Davvero Grazie Sei la mia salvezza Approfondendo I meccanismi Del cuore Volevo trovare Un modo Per aiutare Le vittime Dei traumi Ti ho già detto Qual era il fulcro Di tutta la mia ricerca Giusto? Il mio progetto Ha fatto così tanti progressi Solo grazie a te Di nulla Ma dopo i nostri progressi Ho scoperto un problema Per cui Non potrebbe esserci Soluzione Sentiamo Anche se la ricerca Facesse passi da gigante Se trovassimo Una cura miracolosa Per i traumi psicologici Allo stato attuale Potrei salvare Solo le persone Che posso raggiungere Direttamente E non è abbastanza Beh sì Sempre meglio Di non salvare nessuno Ma non posso Accontentarmi Voglio dire Là fuori È pieno di persone Sofferenti Che non trovano Valvole di sfogo Al loro dolore È un mondo doloroso Crudele E triste E i singoli Possono fare Ben poco Al riguardo Questo è vero L'avevo già detto Questo lavoro Di consulente Non fa che renderlo Amaramente ovvio Penso che i nostri Metodi attuali Non siano abbastanza Io Non mi accontento Di aiutare Solo chi mi circonda Una manciata di persone Su diversi miliardi Vorrei aiutare Più persone A superare Le loro sofferenze Il dolore Può colpire l'anima In un'infinità Di modi E noi Cerchiamo di curarlo Con altrettanti metodi Come ho detto Ci sono persone Disperate Che non possono Chiedere aiuto O condividere Il loro dolore Anche se comprendessimo Pienamente L'animo umano E scoprissimo Come trattarlo Non credo Che basterebbe Per curare un trauma Ecco la conclusione A cui sono giunto È un vero problema Comunque Allora Arrenditi Cosa vuoi che ti dica? Sì Sarebbe facile Purtroppo Non sono mai stato bravo Ad arrendermi Purtroppo lo so Se potessimo Scrutare il cuore Di ogni individuo Vivente Diagnosticare E rimuovere La causa del dolore Sembra quasi Una visione onirica Mi spiego Un consulente Impiega Del tempo Per ascoltare Ogni singola persona Giusto? Sarebbe meglio Se ci fosse Un modo Per comprendere Con più precisione La cognizione Di tutti La cognizione Il memento Ma soprattutto Ah Eran Ma soprattutto Cosa sono questi memento? Sarebbe ora Che ce lo spiegassi I memento sono I palazzi di tutti Consideratelo Come l'inconscio collettivo No Lasciate perde Non riuscireste a capirlo Ma questo sarebbe impossibile Forse La piena comprensione Del cuore Va oltre Le capacità umane Starcoon Ho detto qualcosa Che non va E se fossero Tutti connessi Invece? Questa da dove Salta fuori? Certo Possono essere Connessi Ma No Aspetta Hai ragione Oddio Hai ragione È proprio così Starcoon L'inconscio collettivo Dire calmati Però vediamo Quanto ne sa anche lui Scienza psico-ognitiva Facciamo gli ignorri Ora Sì Sì Cosa c'è Non te l'ho detto La ricerca che sto portando avanti È sulla scienza psico-ognitiva Scusa Devo andare Voglio appuntarmi le cose Finché sono ancora fresche Sapevo che sarebbe Che ne sarebbe valsa la pena Di parlarne con te Grazie Starcoon Giuro Che ti bagherò a dovere La cosa incredibile È che In teoria Lo farai In teoria Rango 6 Il consigliere Bene Devo andare Ci vediamo Corri Maruki Corri Sì chi è? Oh Starcoon Scusa se Prima Sono uscito Di corsa Pervertito Che succede? Ha corso sicuramente Scusami Ho fatto una corsa Fino alla stazione E spinto dall'adrenalina Non credevo di essere Così arrugginito però Comunque Mi ha aiutato a capire qualcosa Avevo la risposta sotto il naso Ma non me ne sono accorto Ora devo concentrarmi Sull'articolo Mi ha aiutato E porterò tutto a termine Anche per te Grazie sul serio Ciao Io devo dirlo A me Maruki piace un sacco Come personaggio E secondo me Come aggiunta È una buona aggiunta A quello che è Royal Hai un'armatura sporca? Dovrei andarla a vendere Hai ragione Chi mi scrive? Ho set di notizie Aiutami Ok Calmi tutti Prima di tutto Ciaia Non è servito a un cazzo Mandagli la lettera Perfetto Dunque 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 Cosa possiamo fare? La cosa bella è che Oya E i Y In ogni caso Anche se mi hanno scritto Non aumentano i loro ranghi Bravi ragazzi Comunque Devo andare dai Y A vendere tutta la roba Che abbiamo preso nel memento Beh 300.000 Yen Arriviamo a 3 milioni Sono contento uguale E andiamo a vendere Tutti i vestiti Ah Avevo Vabbè 15 di questi Questi cazzi Vendi tutto Sono 60.000 Yen Guarda Grazie Davvero E con questi soldi Ci compriamo Ua E dell'altra roba Cura tutte le alterazioni Va bene Grazie Assolutamente E riduce le stat Di un nemico Di 3 turni Perfetto Ora 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 Visto che Voi due In realtà Non mi servite a niente Cosa possiamo fare Beh Allora In teoria Potrei provare Aspetta Da Chiabara C'è Mishima Ok Basta no Stavo dicendo Potrei uscire Con le gemelline Ma almeno Completiamo anche Mishima Completiamo Mishima E siamo a posto Mishima Ciao Amico caro No Ho sbagliato Ho parlato Con il negoziante Proprio Ho overpassato Mishima Ciao È incredibile La maniera Dei ladri Fantasma Non si ferma mai Il fansite Sta letteralmente Scoppiando Oh Ti sei occupato Di quella richiesta Grazie Oh Star Speravo Potessimo parlare Di Akiyama Kun Sei libero Adesso Volentieri Allora Allora andiamo Allora andiamo al dinner A parlare Va bene La cosa ti sorprenderà Ma lì potremo parlare meglio Ok Va bene Tanto Sempre lì Mishima Quindi Sai che novità Ti ricordi di quei tizi Che hanno Che hanno pestato Akiyama Kun Beh Viene fuori Che erano realmente Pericolosi Ho indagato un po' Scoprendo cose spaventose Pare facciano parte Di una gang Che compie estorsioni Come quelle Dalla mattina Alla sera Non sarebbe stato male Saperlo l'altro giorno Un piccolo errore Nella mia recita E sarei morto Beh Almeno sei vivo No Comunque Sei stato coraggioso Patte patte sulla testa Di nuovo Lo pensi davvero Ma Me la sono Me la sono fatta addosso Un'altra volta Mentre indagavo su di loro Onestamente però Sei pazzesco Non ti sei fatto spaventare Minimamente Ho visto mostri peggiori Forse è normale Dopo tutte le disavventure E che è passato Yo Mishima Ah ma guarda Salve Wow È davvero Mishima Visto Nessun altro Poteva essere Così noioso Ehi Hai scelto cosa farei Dopo il liceo Non ancora Perché non entri Nell'esercito Nessuno Noterebbe Una nullità Come te Nelle missioni furtive Troppo vero Scommetto che potresti Infiltrarti ovunque L'arma definitiva Del Giappone Basta così A chi chiama Kun Qualcosa non va Non esattamente Su Scordiamoci di Mishima Non è più divertente Prendersela con lui In che senso Non è più divertente Se è sempre quello Che lo tratta peggio Non so Credo di essermi stufato Ehi Per l'altro giorno Stavo pensando Beh Dovrei probabilmente Ringraziarti Vi è successo qualcosa Sai Ultimamente Ti comporti in modo strano A chi ama Non credere Che non mi sia accorto Di tutti i tuoi lividi Che hai Io Io L'altro giorno Non ho idea Di cosa tu stia parlando Mishima Colpa mia Mi sa che era qualcun altro Sei cambiato però Eh? Io ho quattro occhi Vi vedo sempre insieme Gli fai da coach? Qualcosa del genere È così Un po' ti invidio A ogni modo Ci si vede Ma che cazzo Aspetta Chi ama Beh direi che Chi ama kun Se la caverà la grande È un tipo caparbio E io Sono davvero cambiato Credi che io Stia cominciando a diventare Come i ladri fantasma Lavorerò ancora più duramente Per essere alla vostra altezza Questo è un conto Essere come noi No Mi dispiace Ma proprio no Come mai le catene sono nere? Io sì Di solito sono bianche Vabbè Sai Ho sempre pensato Che non avrei mai combinato nulla Ma Non so come Sono riuscito ad aiutare A chi ama con quei tempisti Mi ha fatto capire che Posso davvero fare qualcosa Per salvare le persone Ecco perché ho iniziato a scrivere Un documentario Su ladri fantasma È stata la ricerca Su quella gang Di cui si era invischiato Chi ama kun A darmi l'input Ora sto redigendo Un massiccio registro Delle vostre attività Grazie al fansite Non vedo l'ora di vederlo Mi stai mettendo sotto pressione Mi Ma ti farò vedere Quel che so fare Insomma Ho vinto un concorso Di scrittura In quinta elementare Non dovrebbe essere Così difficile Certo È la stessa cosa A ogni modo Oggi dobbiamo festeggiare Offro io Al diavolo Le fontane di cocktail Buttiamoci dritti Sui succhi di frutta Sofisticati Costano tre volte tanto Ma sarebbe Saranno tre volte più buoni Nah Sto bene così Ma posso permettermi Solo quelli Se vuoi ordinare Qualcos'altro Dovrei pagare di tasca tua Ok Ma io non volevo nulla Comunque Festeggiamo finché Non è l'ora Dell'ultimo treno Hai succhi di frutta Yo Ci vecchiamo Va bene Mi scima Va bene così Yo Come butta Sei ancora il re della notte Star-chan Scusa Faccio fatica A trovare le parole giuste Dopo essere tornato a casa Dopo una festa Ma è stato divertente Vero Non sono mai stato così A lungo al dinner Credi che sia merito Di quel succo di frutta Voglio dire Costa il triplo del normale Ok La smetto di scherzare Sono molto felice Di aver sentito Quel commento Da Kiyama-kun Hai sentito cosa ha detto di me Ma credi davvero Che una parte di me Si è cambiata La luce nei tuoi occhi Prima è rispento Ti manda Kamushita Sensei Aspetta Davvero Vuoi dire che Ora sembro sicuro di me Caspita Mi fai arrossire Ma grazie Di nulla Quel documentario Che ti ho accennato A partire da oggi Comincerò a scriverlo Per davvero Una volta finita Vorrei che fossi Il primo a leggere La sceneggiatura E la nostra promessa Un giuramento tra uomini Va bene Ci vediamo La cosa bella Allora Per quanto Mishima Sia appiccicoso E sia un po' morboso Come quest Devo dire Devo dire Che la sua parte finale Non il saluto In sé Ma la parte finale Di Mishima Mi mette I brividi Perché Mishima In noi Crede veramente Tantissimo E si noterà Davvero tanto Alla parte finale Il vicepreside Sembra avere i nervi A fior di pelle Ultimamente E beh Il vicepreside Ha annullato la lettera Di raccomandazione A una della mia classe Il vicepreside Ha cominciato a parlare Ultimamente È fastidioso Ce la faranno pagare cara Se non vinciamo La prossima volta Un altro torneo In arrivo Non abbiamo speranza Di vincere però Minchia Oh Credete tanto In voi stessi Sta scuola Vabbè Ci credo Dopo tutto quello Che è successo Ci credo anche io Un'interrogazione Allora L'opera che questo Drammaturgo cieco Ha scritto Cosa pensi Che faranno I ladri fantasma Con Okumura È un'opera letteraria Storica Perché introduce Per la prima volta La parola robot Gli innescheranno Il risveglio del cuore Queste azioni Corrotte Meritano Solo la bancarotta Aziende Ehi Siete in classe Basta parlare Di Okumura E dei ladri fantasma Diamine Starcoon Almeno tu Stavi ascoltando Vero? Cosa? Certo Certo Robot viene Dalla parola cieca Ma da dove si Ma dove si trova In Europa La Repubblica cieca Nell'Europa centrale Bene La Repubblica cieca È situata Nella zona centrale Dell'Europa La parola Robot Viene dalla parola cieca Robota Robota Significa Lavoro forzato Oh È stato bravo Ha saputo rispondere Yarujanega È tornato Morgana A dire Yarujanega Che bello Due interrogazioni Senza di lui Sono state noiose Si usa solo In questo contesto Vi basti L'origine del nome Per percepire La miseria Dei robot Beh Non che noi Vada meglio Visto che siamo Costretti A lavorare Per sopravvivere Vero Kawakami Parliamo di robot Dopo che abbiamo visto Nel palazzo di Okumura Tutti i robot 20 giorni Non c'è tempo Per rilassarsi Sai Morgana Ti ho detto Il tempo Ce l'abbiamo Ce la faremo Non ti preoccupare Che si fa oggi Che si fa oggi Grazie per prima E Anasaki Maruki Grazie mille Per l'altro giorno Sento che le nostre Discussioni Ci aiuteranno davvero A far progressi Nella ricerca Pensi di potermi Dedicare il tuo aiuto Anche oggi Beh Perché no Io ho buttato via La persona Del tuo arcano Pensando che non mi avresti Richiamato Così presto Tra l'altro Aspetta un attimo È passato il mese Ma io l'ho comprato Il frullato Iperproteico Eccolo Le importazioni Ecco Sbagliato Grazie Che queste Oh Ce n'è una al mese Meglio prenderle No Torniamo Quindi Da Maruki E andiamo di nuovo A parlare con lui Grazie per avermi aiutato L'altro giorno Mi hai aperto gli occhi Posso chiederti Di dedicarmi Un altro po' Del tuo tempo Penso di poter Apprendere Altro da te Però vorrei Che mi aiutasse Ad aumentare gli sp Maruki Però Credo che siano finiti Una pausa Non sarebbe male Vuoi aiutare Maruki? Andiamo Grazie Star-kun Voglio parlarti Di tante cose Su Entra Detto così Maruki Dai Calmino Dai ti prego Mentami sti SP Maruki Dai Ne ho bisogno Ho bisogno di più SP Bene Cominciamo Quanto all'argomento di oggi Vediamo Mi piacerebbe sentire La tua opinione Su questi ladri fantasma Ah Così Quelli che Rubano i desideri Dei criminali Spiegandoli Spingendoli A confessare So che è incredibile Ma ho sviluppato Un interesse accademico Nel loro confronti E sono rilevanti Con la tua scoperta? Lo sono Beh Almeno credo È solo una mia sensazione Ho il sospetto Che le imprese Dei ladri fantasma E le mie ricerche Siano legati Dagli stessi principi Ah Per questo ho deciso Di analizzarli Dal mio punto di vista Per esempio C'è la questione Dei loro metodi Stando alle lettere Di sfida Che inviano Dichiarano di Rubare i desideri Com'è possibile? Hai qualche idea Starcoon? E tu invece Che idea c'hai? Una domanda Una domanda Non è da te Ma vediamo Potrebbe essere possibile Se ci fosse Un surrogato materiale Di quei desideri Starcoon Ricordi quella storia Dei biscotti? Hai voglia Nell'esperimento Il desiderio Dei biscotti Ha cambiato il gusto Percepito Dalle persone Penso che possiamo Vederla Allo stesso modo Non sono facili Da percepire Ma i desideri Hanno un effetto Incredibile Sulle capacità cognitive E questo è vero In altre parole Se il desiderio Sparisce La percezione cognitiva Dei biscotti Torna normale Ti va Ti fa venire in mente Qualcosa Un risveglio Del cuore Già Un risveglio Del cuore Dei ladri Fantasma Ecco la base Della mia teoria Il furto Dei desideri Non è metaforico Ma è qualcosa Di diretto Non sappiamo ancora Come rubano Quei desideri Ovviamente Ma Se l'idea Dei desideri Tangibili È realizzabile Credo che ne consegua Che è possibile Sottrarli In un mondo Intangibile Diciamo Un mondo Composto Dal contenuto Del cuore Delle persone In quanto Ladri Se potessero Percepire Un mondo Simile Potrebbero Rubare I desideri Come un tesoro Qualunque Ma Ruki Ha capito Quasi tutto Ehi Starkun Secondo te È la direzione Giusta Sembra Improbabile Forse avrei dovuto Digli altro Però Sono d'accordo Con te Ma se fossi davvero Vicino alla verità Sarebbe ancora più Incredibile Detto questo Non lo sapremo mai Con certezza A meno Di non chiederlo Direttamente All'adrifantasma Credo di poter Formulare Un'ipotesi Concreta Manca poco Al completamento Di questo articolo Grazie Starkun Sento Una profonda Gratitudine Beh Maruki Dai Dammi SP Dammi SP Aumenta la possibilità Di flusso Grazie Questo è molto utile Dammi SP Ora passiamo All'allenamento Mentale di oggi Che gli dici Di qualcosa Del genere Abbiamo aumentato I miei 5 SP Al giorno Yes Il buffer Dei ladri Ha comprato Anche La merendina A tema Oggi Bravo Maruki Ok Vediamo Chi c'è libero Invece Questa sera Allora Chi è libero Vieni in chiesa Oggi Pensi di venire In chiesa Oggi Mi troverai Qui a giocare A shoji Come al solito Se hai piacere Passa per una lezione Dammi un attimo I fumi Scusa Due secondi No Non aumenti Il nostro rango Scusami Allora Preferisco fare Qualc- Akechi Yeeeh È perché ti ho mandato La lettera di sfida Vero Akechi Oh cazzo Akechi Ti voglio bene Oggi è mercoledì Devo ricordarmi Che devo andare Al Jets Club Domenica Akechi amico mio Ciao Ehi Starcoon Buonasera In realtà Avrei un po' da fare Sto aspettando qualcuno Ti farò sapere Quando avrò un po' di tempo libero Per ora Faremo una tregua Oh Ma Akechi Ma come Stasera faremo Allora Una cosa Un po' diversa Una cosa Che non abbiamo Mai fatto E che non ho Effettivamente Mai fatto Neanche giocando Per i fatti miei Benvenuto Sei un liceale Hai buon gusto In fatto di hobby Usare il laghetto Di pesca Perfetto È notte Quindi pescare Costa solo Mille yen Cosa desideri Che premi avete Vediamo 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 La canna Hightech Ce l'ho già Mi dispiace Veste Veste nere Porta chiavi Esca Spirito tenace Automataro E danza di ali Ok Ci sono anche Guarda Dei tipi di canne E di esche Diverse Esca di origine Ignota Si usa solo per fare Abboccare un tipo Speciale di pesce Ok Va bene Peschiamo Non mi ricordo Non ho idea di come si faccia In realtà È la prima volta Che lo faccio Come vuoi Ecco l'esca Con questi Dovresti prendere Qualche pesce piccolo Di notte È difficile pescare Ma ci sono molti pesci rari Va bene Qual'esca vuoi usare? L'unica che ho Morgana Allora Usando L Puoi scegli la direzione Che desideri Premi X Per gettare la lenza La distanza raggiunta Dalla lenza Determinata Dall'indicatore Di potenza Cerchi di premere X Al momento giusto Per far scendere L'esca Di fronte a un pesce Ok Una volta gettata la lenza Aspetta che il pesce abbocchi Puoi scegliere Un'esca diversa E lasciare di nuovo Premendo cerchio Ok Cerchiamo di prendere quello Comandi di pescare parte 2 Premi X Appena un pesce morde L'esca Per farlo abboccare Prima che scappi Sposta l'icona L Dentro la zona rossa E premi rapidamente X Per riavvolgere il mulinello Cerca di evitare Di riavvolgere Al di fuori Della zona rossa Ok La canna da pesca Ha una resistenza limitata Se il galleggiante Colpisce i bordi Dell'indicatore Troppo spesso La lenza si spezzerà E il pesce fuggirà Ottimo Dai Dai Eri lì Due secondi fa No Vè via Mannaggia Il pesce piccolo Sta arrivando E niente E niente Dobbiamo prendere Quelli piccoli Una carpa selvaggia E ancora una E ancora una Targhetta Cosa vuoi fare Vuoi proseguire Preso 40 cm La trota del tesoro E anche una Targhetta Altri punti doppi Cosa vuoi fare Vuoi proseguire Perfetto Altri 50 cm E niente Targhetta Cosa vuoi fare Vuoi proseguire Altro Una trota Dai 7 colori E anche una Targhetta Ecco fatto 98 cm Hai preso Una carpa Inarrivabile Hai ancora Un po' di tempo Cosa vuoi fare Continuare a pescare Micchio 14 cm Hai preso Un pesce rossa E anche una Targhetta Siamo Qui da un pezzo Cosa vuoi fare Peschiamo ancora Un attimo Tanto abbiamo Tempo no Morgana La serata È ancora giovane Sì però I giovani Vanno a pescare A quanto pare Dai pesciolino Bravo Un altro pesce rosso Con una targhetta Si è fatto tardi Forse dovremmo smettere Bene Il bottino Finora è Una carpa Inarrivabile 98 cm Fanno 1200 punti Pesce rosso Lungo 14 cm 40 punti Ah Una targhetta 80 punti Un altro pesce rosso Altri 40 punti Altra targhetta Altri 80 punti Al momento Hai 1360 punti Cosa vuoi fare Che premi hai Allora 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 Questa qua di qualità Certo è buona Ma è uno spreco Però A sto punto Vai direttamente Su quella grande Ma io continuerei Con queste qua Grandi E già che ci siamo Prendiamo anche una media Beh Ci vediamo la prossima volta Allora Signore dei pesci Ben fatto So che era Che era solo per divertimento Ma hai aumentato La tua perizia Eh lo so Rango massimo Siamo sempre aperti Passa pure quando vuoi Anche quando piove Non penso Chi è che scrive A quest'ora Esatto Il ventilatore Che ho a casa È diventato così rumoroso E molto vecchio Insomma Non riesco a concentrarmi Sullo shoji Forse dovrei comprare Un condizionatore Però Non ho grande familiarità Con gli elettrodomestici Perciò Vorrei chiedere il tuo aiuto Domani Vorrei andare da Chiabara Ti andrebbe di accompagnarmi Già Il caldo e il rumore Sanno essere snervanti Ehi Fare shopping Entusiasmante Non trovi? Va bene Lo apprezzo molto C'è un negozio D'elettrodomestica Da Chiabara Ci vediamo lì Un negozio D'elettrodomestica Eh Non deve essere male Visitare un negozio Così grande Va bene Fumi Ci vediamo là Ci vediamo al negozio E un'altra giornata passò E tra poco Andremo a rivedere La nostra cara Fumi Stavo andando a comprare Un condizionatore Ma ora che sono qui Sto avendo un ripensamento Non ho mai amato Molti condizionatori Raffreddano troppo Ma il ronzio di un ventilatore Mi disturba Mi impedisce di concentrarmi Sui miei libri di strategia Che dovrei fare? Scusami l'attesa Wine of both Fai con comodo Siamo qui per te Grazie A ogni modo Non dovrei Assecondare la mia attivitubanza C'è il rischio Che diventi una debolezza Nello shoji Devo giungere A una risposta Al più presto Phoenix Che coincidenza E lei è... Ah Dove l'ho già vista? Sei Kitagawa-kun Del corso d'arte Vero? Io sono i Fumi Togo Frequento anch'io la Kosei Questo incontro Non l'avevo mai fatto Togo Ah La giocatrice di shoji Sono Yusuke Kitagawa Piacere di conoscerti Yusuke Che ci fai in un negozio Di condizionatori Se sei povero? Anche voi siete venuti qui A godervi il fre... Ah 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 cazzo Mi sono appena risposto A godervi il fresco? No Mi sta aiutando A scegliere un condizionatore Kitagawa-kun Sei qui per... Il mio dormitorio Un inferno di fuoco Yusuke Io ti voglio bene però Pertanto la miglior soluzione Era cercare un posto Più confortevole Dove sprigionare La mia creatività Perché non ti spogli? Ottima idea Vero? Tuttavia alla fine Ho deciso di non portarmi La mia attrezzatura I miei fondi Sono consacrati All'acquisto di materiale Anche se il caldo Ha ucciso il mio genio Qui posso godermi la brezza E farmi ispirare Dalla tecnologia del futuro Che altro desiderare? Capisco Sei molto convincente Kitagawa-kun Oh Allora capisci anche tu Togo-san Con un solo fendente La lama della creatività Può sbaragliare Qualsiasi avversità Che sia impugnata Da un pittore O da una stratega L'importante è che la lama Sia guidata Dalla virtù Ah Ah Una nuova ship È un po' eccentrica Vero? Ah È una cosa positiva No? Tu credi? Possedere una visione De così personale E risoluta del mondo Sì Oserei dire Che è una cosa meravigliosa Qualunque Qualcosa non va Voi due? No Niente di particolare A proposito Togo-san Hai deciso Per il condizionatore? No Sto cercando di scegliere Tra un condizionatore E un ventilatore Tra i due Preferirei il ventilatore Ma ero un zio Sarebbe un fastidio Io ho visto Un ventilatore Che funziona senza pale Forse Fa il caso tuo Un ventilatore senza pale Ho visto un ventilatore A torre Con un interno cavo Eppure l'aria Fluiva ugualmente Ah La tecnologia Allora è deciso Va bene quello Con una tecnologia simile Potrei essere ispirata A creare nuovi stratagemmi Innovativi Lieto di essere stato d'aiuto Se Ancora sto ridendo Per Yusuke Se posso chiedere Cosa intendi fare Con il tuo vecchio ventilatore Sarei lieto Di offrirgli Un riparo Un'altra tua conoscenza Hai un sacco di agganci Di agganci interessanti Star-kun Eh già Ho tanti amici Ah Se non è Mifune-san È una veggente eccellente Affascinante Che genere di predizioni fai? Denaro Fortuna Lei sa tutto Non tutto E senza i miei tarocchi Non posso predire granché Oh Ma posso dirvi di più Basandomi sulle vostre aure personali Oh capisco Sembra che voi due Abbiate un rapporto Particolarmente interessante Con Star-sun Cazzo c'era bisogno di te Ciaia per capirlo Brava Non è esattamente un'amicizia ordinaria Infatti percepisco Il legame alquanto inusuale Capisco Beh anche questo è vero Sì Proprio così Sei proprio una persona misteriosa Le loro stelle Risplendono con una tale intensità Che strano destino Che può averli fatti avvicinare A proposito Mifune-san Perché sei qui? Oh giusto Devo sostituire Il mio vecchio ventilatore elettrico So che il caldo peggiore è passato Ma non posso resistere Senza per altre estate a Tokyo Che coincidenza Anche io ne stavo cercando uno E loro due Mi stavano aiutando con il modello Cielo Un'altra bizzarra coincidenza Forse il fato Ci ha voluti tutti qui Ora possiamo cercare Quel ventilatore Senza pale insieme No? Eh? Senza pale? Come fa un ventilatore a pale A senza pale a soffiare aria? Non sono mica così ingenua Vedere per credere Diamo un'occhiata Non sei ingenua Sei una stronza Ma Cosa ti amine? Hai visto? La tecnologia Ciaia Porca troia Oh no Povero Yusuke Povero Cata ca Ah Interessante Una sera Senza che nessuno Che mi scriva Sarà il momento Allora giusto Per salvare Per i E Grazie a tutti.